Ciao a tutti! Angela Domenica ha scelto questo spray di Reneforter per i capelli ricci. È un finish termoattivo da spruzzare sui capelli umidi dopo la detersione e va a rimodellare e a ridefinire i ricci. Si può utilizzare però anche tutte le mattine sui capelli asciutti, proprio per risvegliare i ricci dopo il riposo dotturno. Come si usa? Si vaporizza sui capelli bagnati o comunque sui capelli asciutti in questo modo. Dopodiché si va a rimodellare il riccio per dargli la forma desiderata con le mani e per ottenere un effetto ancora migliore si passa col diffusore. L'idea in più per dei capelli ancora più brillanti, come ultimo gesto di risciacquo, usa l'acqua di brillantezza di Reneforterer. Sono curiosa di sapere se hai mai provato questi prodotti e se ti sono piaciuti. Scrivili o qui sotto nei commenti. Ci vediamo giovedì! Grazie a tutti!